buongiorno ciao giornissimo ciao a tutti i belli e brutti buongiorno timo con fabio grazie facciamo all'indietro manu vai a lungo per arrivare là dai bello vivo via vai 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 a metà di un passettino via guardate con che piedi attaccati quando finisce il primo quando finisce parte il secondo vai leggeri più leggeri adesso questa velocità che prendo subito nei primi 3 o 4 passi la mantengo fino alla fine via leggera leggera dai così fate girare bene le gambe vieni lì si tecno questa lì si arrivo bravo capo lì questa buona tempo lì 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 ecco lì lavoro con le dita capo lì eccola bravo lì lì si tecno ecco lì 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 va bene porta le dante tre vieni 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 manu giusta non è il suo giro è giusto vado veloce eh forte forse senza forza ragazzi se non la passa il governo calma c'è eh riuscito ora giusto 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 sfiguramento l'importante controllo lì West arriva in termini si giusta ok bravo Manu bravissime è questo è questo dobbiamo capire le dinamiche di gioco buona bravo è un 7 contro 7 più due jolly i jolly sono i quinti bello per ok concludi dai vai 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 non portiere non portiere bravo ok bravo ok bravo 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 mandalo bravo Pippo controlla così non vedete che è diverso perché giochi là vieni dritto vieni dentro entri dentro giochi dentro ecco andato bravo Pippo bravo 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 Pippo gioca subito in avanti con io ma che io sono qui non l'inputa un'idea di mia pressione mi diamo a non pianare c'è tutto il campo allontanarsi alla pressione il più possibile vai verdi vai per gol Sam vai per gol Sam vai per gol bravi 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 quindi com'è per favore anche Mare anche Sam Bangu e Citi e Cittone ok scuso bravo bravo tu Sam bravo tu prenditi il campo aspetta lì bravo bravo peranze bravo bravo non si gira non si gira lo sai sai che mancino anche qua il controllo movimento si fai giocare il compagno oh che bella questa si fate aspetta si poi su si aspetta un po' è questo eh lo vedi? si lo vedi Mace che lui ti perdi lo sai perché? perché lui ti perde e lui è costretto a fare questo nel momento in cui fa questo te li passi davanti lui è piantato con i piedi adesso fuolo si bravo 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 prima oh Sei tu, sei! Oh bella questa! Perchè è staccato, perchè è staccato! Bravo! Bravo! Questa è bella!